Buongiorno dalla TP della Val Gardena, seconda giornata di gare per i tabelloni principali anche se effettivamente è il primo giorno pieno perché ieri ci sono disputati soltanto due incontri per il singolare. Questa mattina in campo l'italiano Marcora che se lo vedrà con l'americano Krajček come incontro iniziale, intanto si stanno scaldando per i doppi che giocheranno poi questo pomeriggio. A seguire vedremo anche Alessandro Petrone, il milanese, contro Jan Mertl, cecoslovacco. I big Simone Bolelli se lo vedrà con Matteo Viola e giocheranno pomeriggio presumibilmente dopo le 16 e a seguire avremo Andreas Seppi contro la promessa Matteo Donati e anche questo non sembra prevista prima delle 18. Per quanto riguarda i doppi in pomeriggio vedremo Federico Gaio con Patrick Prader che giocheranno contro l'irlandese Klasse K e l'americano Krajček e in serata poi chiuderanno gli incontri il singolare Andrea Arnavoldi contro Mirza Basic. Un bel programma pieno per partire alla grande con questo torneo. Ci riaggiorneremo nell'arco della giornata.